Benvenuti nel mondo degli orologi Yorgi Isek. Yorgi Isek è un marchio di orologi di lusso svizzero che si contraddistingue per la sua abilità nel creare orologi unici e innovativi, caratterizzati da un design esclusivo e una grande attenzione ai dettagli. La casa produttrice, fondata dall'omonimo designer nel 1997, ha raggiunto una grande notorietà grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla sua abilità nella produzione di orologi di lusso. Tra i modelli più rappresentativi della produzione Yorgi Isek, possiamo citare la BIS e il Verdict. La BIS è un orologio sportivo con cassa in titanio e cinturino in gomma, dotato della funzione cronografo e di una ghiera unidirezionale. Il Verdict è un orologio da polso elegante, dotato di una cassa in oro rosa e cinturino in pelle, con la funzione della data e del cronografo. La gamma di orologi Yorgi Isek comprende modelli per uomo e donna, tra cui orologi sportivi, orologi da polso eleganti e orologi da pilota. I modelli per uomo sono caratterizzati da uno stile maschile e deciso, con una vasta gamma di funzioni come la data e la fase lunare. I modelli per donna, invece, si contraddistinguono per l'utilizzo di materiali pregiati come l'oro e i diamanti. In sintesi, Yorgi Isek è un marchio di orologi di lusso svizzero che rappresenta uno dei maggiori esempi di innovazione e creatività nel settore degli orologi di lusso. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla scelta dei migliori materiali, Yorgi Isek ha raggiunto una grande notorietà e rappresenta un'ottima scelta per chi desidera acquistare un orologio di lusso esclusivo e di alta qualità.